Il presidente della commissione bilancio del comune di Licata Calogero Scrimali torna sull'argomento verde pubblico in città, focalizzando l'attenzione in particolare sulle palme della via Principe di Napoli e di via Palma, ormai rinzicchite e ammalate, con il rischio ormai evidente di scomparire tutte. Nell'intervento del 10 dicembre scorso Scrimali, in una nota, aveva sollevato il problema delle palme, del verde pubblico, ormai rinzicchite che non venivano abbattute malgrado un contratto affidato a terzi per quasi 6.000 euro. Ebbene, a distanza di quasi tre mesi, sottolinea oggi con un'altra nota il consigliere Scrimali, tutte le palme di via Principe di Napoli e molte altre in via Palma si sono ammalate ed hanno preso il posto delle prime e poco per volta stanno scomparendo tutte, se non si pone rimedio. La potatura dell'essenza e arbore era in ritardo allora, figuriamoci adesso, continua Scrimali, e le fronde strisciano già per terra occupando il marciapiede. Scrimali torna poi sulla questione, anche in vista tra qualche settimana, della ricorrenza della dolorata molto sentita in città e via Principe di Napoli attende di ritornare al suo legittimo decoro. Poi Scrimali sposta l'attenzione sulla piazza Tilio Regolo, dove viene segnalato come gli oleandri fanno bella mostra di un rigoglio primaverile molto invidiabile, costituendo intralcio ed impedimento alla circolazione dei passanti e alla loro sicurezza. Situazione che non va e Scrimali spiega il perché. Intanto perché il lavoro poteva essere interamente effettuato con risorse interne aumentando il loro utilizzo che ad oggi è part time, invece si è preferito esternalizzarlo e poi perché malgrado ciò si è estremamente in ritardo rispetto ai tempi che la natura ci impone. Il presidente della commissione bilancio e finanze Scrimali punta il dito e accusa l'amministrazione comunale dedicata di non essere capace di curare e tutelare adeguatamente il gran bel patrimonio arborio della città, riferendosi alla strage di Palme ad opera del punteruolo rosso. Ma nel contempo il problema è tale da mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini. Occorre intervenire, conclude Scrimali, e occorre farlo subito e sicuramente prima della ricorrenza della dolorata.